L'infinitura al partenio Lombardi e partenza subito dopo pranzo in treno alla volta di Cesena. Questo è il programma della mattinata che è filato via rapidissimo sotto gli occhi di un attento Mimmo Toscano. L'allenatore, che al Manuzzi non ci sarà, avendo nuovamente passato il testimone a Michele Napoli per motivi di salute, ha parlato alla squadra chiedendo un'altra prestazione di carattere ad un gruppo che finora in trasferta ha avuto un cammino disastroso. Cinque sconfitte, intervallate da due pareggi e nessuna vittoria lontano dal partenio Lombardi. Uno score da retrocessione, bilanciato per fortuna dal rendimento casalingo. Al di là del brasone dell'avversario, però, la classifica dice che quella di domani sarà una sfida tra due compagini pericolanti in lotta per la salvezza, almeno per i numeri, quindi l'impresa non è affatto impossibile. Per provare a centrarla, lo staff tecnico ha per l'intera settimana disposto la squadra con un 4-3-3 speculare a quello dei bianconeri. Deciso lo schema, resta ancora qualche dubbio sull'undici iniziale. Non molti, in tal senso, i ballottaggi in essere, anche perché alcuni sono in via di definizione, come quello tra i pali, dove Radunovic è in nettissimo vantaggio su Frattali. Davanti a lui, la linea 4 si snoderà nuovamente lungo l'asse González, Jim City, Perrotte e Asma, ma rispetto alle precedenti settimane ci sono almeno tre variabili in più. In mediana, dove non sono stati convocati, su Marie e Verde, l'unica certezza legata al ritorno, dal primo minuto di Angelo D'Angelo, che si riprenderà d'ufficio la fascia di capitano, è il ruolo di leader carismatico del centrocampo. Accanto a lui, gli altri due mediani, destinati ad incrociare le giocate dell'ex Cone e di Cascione, saranno scelti tra Paghera, Omeunga, Lassic e Crecco, con quest'ultimo che potrebbe avere una chance pure come esterno alto a sinistra. In attacco, tuttavia, da quello che si è carpito dopo la rifinitura, si va verso un tridente davvero inedito, con Camara sul versante destro, Mokulu centrale e Bidawi a sinistra. L'ex Crotone a Cesena potrebbe giocarsi una delle sue ultime carte, per convincere la dirigenza e Toscano a dargli fiducia. Penalizzato finora dal modulo, il 4-4-2 e il 3-5-2 non si sposano con le sue caratteristiche, ma anche da una condizione fisica non certo eccellente, l'anno di inattività si è fatto sentire più del previsto, Bidawi ha finora deluso le attese di chi sperava di vedere ad Avellino lo stesso esterno ammirato a Crotone sotto la guida di Drago. Un buon motivo per puntare sulla sua voglia di riscatto personale, che dovrebbe in ogni caso essere comune, pur il resto di una squadra mai vittoriosa in trasferta e sempre incapace di mettere insieme tre risultati di fila.